amici del canale anche oggi in montagna e oggi in montagna in compagnia sono qui col famoso montanaro camuro ma finalmente dopo tanto tempo siamo riusciti a uscire una volta insieme dove ci porti oggi luca allora montanaro sì ma famoso proprio no oggi ti porto sulla grignetta sulla grigna meridionale abbiamo lasciato la macchina ai piani resinelli ora siamo qua rifugio porta è niente ti porto a fare la direttissima mai se passo questa volta è già un buon risultato siamo in provincia di decco dai partiamo ragazzi vediamo un po come va e cominci dietro al rifugio prendiamo il sentire un numero 8 che è la direttissima per arrivare sulla grignetta forza che ci facciamo anche se giro a un quarto della partenza troviamo questo bivio il nostro montanaro già è partito noi prendiamo il sentire il sinistra che è il sentire 8 per la direttissima per arrivare sulle grignette forza che ripartiamo guardate che spettacolo ragazzi ecco la risegone e lì c'è il lago di como e noi continuiamo con il nostro pro de montanaro camuno e ci sentire un po' Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti.